Sono le ore 9 del 1 ottobre 2020, si procede a chiamare l'appello per accertare la presenza in videoconferenza dei consiglieri appartenenti alla prima commissione consigliare. Presidente Evola, Vicepresidente Mineo, Consigliere Forello, Consigliere Chinnici, Consigliere Sala, Consigliere Rini, Consigliere Ferrandelli, poiché nessuno dei consiglieri appartenenti alla prima commissione consigliare è presente in prima convocazione, si rinvia la seduta in seconda convocazione alle ore 10.